le auto sono in ordine inverso per anno riusciranno le due williams del 1900 vediamo c'è il professore lì ah io ci vado proprio piano piano mamma mia ragazzi e questa è dura cioè guarda i fittipaldi ma come cacchio fai combattimenti come una nuova volta ragazzi ho fatto fucsia questo non frena dai dai mamma mia ragazzi a prenderci non si frena mai e se la porta a casa mamma mia spettacolare che figata raga ma è proprio figo eh è proprio fighissimo che ricordi guarda qua oh troppo troppo ragazzi ma va figurati ragazzi ragazzi cosa vi devo dire c'è è fantastico c'è sta modalità è fantastico poi le f1 classic grazie a tutti 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 grazie a tutti